Quello che vediamo qua è un esempio di come stanno evolvendo gli ambienti lavorativi, nel senso che l'ufficio sta cambiando forma legata alla modalità in cui noi lavoriamo. Cosa voglio dire? Vuol dire che mentre tradizionalmente siamo legati al fatto di avere la mia scrivania, la mia sala riunioni, il mio ambiente, il mio gruppo, oggi sempre di più all'interno dell'ufficio noi stiamo cercando il momento in cui telefono, il momento in cui faccio una videoconferenza, il momento in cui leggo la posta, il momento in cui collaboro e questo non è più legato fisicamente alla mia area ma è legata all'area più adatta allo svolgimento di questa attività. Quindi quando vedo questo tavolo in cui magari due persone possono sedere fianco a fianco lavorando allo stesso momento, al contrario può essere un punto dove facciamo una breve riunione, allo stesso modo la tecnologia che vediamo qua mi permette di utilizzare macchine come queste per poterle fare, lavorare come dei computer o come dei telefoni perché spesso mi serve fare una videoconferenza. È l'ufficio di oggi.